Come giudica la prestazione di questa sera? De Monaco per le prossime partite e in più abbiamo dato spazio ai ragazzi ai minuti importanti nelle situazioni di partita non scontate, quindi per il momento stiamo riprendendo il cammino che avrà interrotto un po' per queste vacanze natalizie, speriamo di migliorare partita dopo partita, adesso ci prepariamo per Palocco che sarà comunque una partita molto combattuta, anche se lì all'andata abbiamo avuto qualche difficoltà, però non avevamo Gonzales e in più la squadra natalizia. Nulla è scontato in questo campionato, continuiamo su questa strada che andiamo abbastanza convivendo.